Tempo abbastanza stabile in prospettiva per questo fine settimana sulla regione. Nella giornata di sabato ci aspettiamo cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le zone. Nel pomeriggio un po' più di nuvolosità sulla zona montana. In serata è possibile qualche locale temporale che dalla Calia potrebbe poi interessare anche altre zone, ma si tratta di una probabilità comunque bassa. Temperature in aumento con valori intorno ai 32 gradi in pianura e anche umidità in aumento. Maggiore stabilità ancora per domenica, quindi direi tempo bello su tutte le zone. Cielo sereno, poco nuvoloso, con venti e regime di brezza. Temperature in ulteriore lieve aumento, intorno ai 33 gradi le massime attese in pianura. Un po' meno sulla costa per effetto delle brezze. Lunedì passerà probabilmente un debole fronte sulle Alpi, quindi avremo un po' più di variabilità. La possibilità di temporali andrà aumentando nel corso del pomeriggio e della serata, sempre però a carattere sparso. Dopo questo passaggio del fronte entreranno correnti dal nord-est, quindi un po' di bora moderata sulla costa. Bora che ci accompagnerà anche al mattino di martedì con aria più secca. Rientreranno a condizioni di stabilità anche per i zone successivi, quindi l'estate va avanti e con temperature ancora al di sopra della media del periodo. Buon fine settimana a tutti!